Vieni, oh Spirito Santo, dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza. Donami la tua intelligenza, perché io possa conoscere il Padre nel meditare la parola del Vangelo. Donami il tuo amore, perché anche quest'oggi, esortato dalla tua parola, ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato. Donami la tua sapienza, perché io sappia rivivere e giudicare alla luce della parola quello che oggi ho vissuto. Donami la perseveranza, perché io con pazienza penetri il messaggio di Dio nel Vangelo. Donami la tua fiducia, perché sappia di essere fin d'ora in comunione misteriosa con Dio, in attesa di immergermi in Lui nella vita eterna, dove la sua parola sarà finalmente svelata e pienamente realizzata. Amen. Amen. Grazie.